Fenicopter è una piattaforma di pilotaggio remoto di droni. Cosa significa? Significa che all'aumentare del numero di droni in area non abbiamo abbastanza piloti per controllarli. Immaginate che per un'area protetta, per tutte le protette d'Italia, avremmo bisogno di più di 6.000 voli ogni 20 minuti. Ma non ce l'abbiamo tutti questi piloti. Allora immaginate di poter controllare più droni o più flotte di droni. E noi lo facciamo grazie a Fenicopter, un attore di controllo virtuale online in cloud. Come mi vedo fra due anni? Bene, sempre così bello snello. Sicuramente immagino di poter aiutare con questo progetto tutta la protezione civile, tutti i nostri strivigili del fuoco che veramente combattono ogni giorno e veramente per migliorare il controllo su tutto il nostro territorio.